Ragazzuoli benvenuti a tutti quanti su questo nuovissimo video. Io ragazzi vi ricordo che se volete supportarmi nell'item shop di Fortnite è possibile farlo e basterà andare appunto nell'item shop, cliccare sull'ettangorina in base a testa supporto un creatore ed inserire il mio creator code ovvero Croatomist. Accettare e il gioco ragazzi sarà fatto. Inoltre vi ricordo di lasciare un bel mi piace a questo video se ovviamente il video vi è piaciuto e per supportarmi. Detto questo ragazzi non perdiamoci in chiacchiere e godetevi questo fantastico video. Ragazzi la vinciamo per questi ragazzi in tutte e tra le piattaforme che ci stanno guardando? Vai andiamo, andiamo. Perché entri le piattaforme? Perché sono un coglione, deve sempre mettere i puntini su da lì. Sì sì, però quando per esempio lo faccio io con lui si lamenta, eh? Mamma mia! Potrei impazzire Festo, eh? C'è uno che è entrato in casa con me e se non ho un'arma impazzisco. Sto arrivando? Ok, una pistolina, faccio Tomb Raider, andiamo. Entra davanti, gli tiro le... Oh! Cosa gli tira le... Oh! Sì sì, sto arrivando. Che sta messa bene, arriva dopo adesso. Nice, vado dietro e presto. Al pump. Eh, ho sentito. Ma dov'è? Qua, piano terra. 31 blanco. Se marti vieni qua, c'è ancora gente F? Sì, al pump è uno blu questo. Come c'è se pare che è blu? Non lo è a me, a me, a me, a me. Non ha nessun pump. Tutto mi sta fottendo, eh. Tira qua, eh. Mattina ho i... Vieni, ma c'è un team da me? I spiritual. Eh, lo so, se non posso, non posso, non c'è un team da me. Arrivo. 191, morto? Ahahah. Stupido po'. 61 in testa. 150, ciao. Cosa fa? Chi è che ha impulsato? Non noi. Venga, venite qua. Eccomi. Grazie per gli squirtini. E' festo. Ok. E' festo quante volte sta impulsando? Andiamo, andiamo, andiamo. E' fè. Oh, vieni qua. Oh, niente, hai impulsato. Cioè, ha paddato. No, ha giampato. Cos'è che state facendo? Cos'è che state dicendo? Andiamo. 22 in blu? Ah, prendiamo il suo pad. Gli pulso sopra, gli pulso sopra malissimo. Bianco? Minchia amarti. Mamma mia, oh. Tutti che mi stilano le kill, raga. No, no. No, piti madriano. Ah, piccolo e festivo. Sono andato giù. Ho finto i materiali. Questo qui gli ho di butto. Ah, uno di vita, eh? Vengo da te, F. Vengo da te. Uno di vita, vado, vado, vado. Finto i maschili. Sei calmo, sei calmo. Guarda, ci sono maschili. Chiudere. Qua davanti, maschili. Andato. Bene, 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 bene. No, non ci fare. Dopo 31, quello a nord. Lo buscio di impulso, eh? E' una maschia dagli F? Sì, sì, l'ho preso, l'ho preso io. Devo bendarmi un secondo. Sembra arrabbiato questo qua sopra. Come fa con te, Marty? Eh, questo qua è arrabbiatissimo. Chiuso, chiuso. Faccio un attimino qua qualcosina. E non ho nulla. Ah, ti ho preso partinato, anche per me. Prendi i miei, Marty, prendi i miei. Prendi qua. Sto arrivando. Ah, forse vogliono fare i reboot. Ah, va bene, Givisci, ancora di più. Anche senza forse, mi sa. Ti avranno già fatto prima, allora. Ah, ok. No, no, invece, eccolo qua. Morto. Ah, ah, ah. Ma non c'è, è morto. Oh, no. Ti faccio il medikit. Ma lei non sa mangiare il sushi. Ma lei veda di andare a pedalare allegramente. Forza che andiamo. Le piace il sushi, Sider? Non particolarmente, però conosco dei posti molto buoni. Nemmeno a me, però lei, Martina, dice che me lo fa piacere, dove andiamo a mangiarlo. Cioè, dipende se Martina intende il sushi quello serio. Quello serio, quello serio. Quello serio, quello serio. 50 euro, da 50 euro a... Ah, uno qui. Ah, madonna. 50 euro mangi come un animale, però. Ma che cazzo stai dicendo? Non mangi così un cazzo. Eh, allora. Qua a Milano. Mi sembra un po' esagerato. Mi scusci. No, non ho mai esagerato. Se non mangiare il sushi buono, sai che cazzo. E penso che posso farlo vedere. No, no, no. Provo. 50. Quasi andato. Morta, KS. Nice. Devo comunque... Vado di impulso? 18. Visto. Morto uno. Arriba, arriva, arriva. Exeter. Morto. C'è la safe, attenti. 95. Morto. Ok, easy. No, sparano, sparano. Costruisco, costruisco. Faccio un attimo le basi per tutti quanti, eh. Sì, vabbè, ma dio caro, ci stanno sparando dappertutto. Vabbè, vabbè. Siamo a posto, siamo a posto. Ho gli scudi per lei, Exeter. Venga. Sì. Ah, fatemi una vita. Metto, metto, metto due gunfire qui, ragazzi. Qui. Copriamoci più possibile. Ma perché sparano tutti a noi? Eh, ho io, ho un presentimento. Lei ha un presentimento? Sì, ho un presentimento. Ok, ok, claro, bravo. Ok, sono piena. Sono apposta. Io li vado a prendere a questi. Sì, dovresti in mezzo. Sono in mezzo, sono in mezzo, sono in mezzo. No, non è in mezzo, di nuovo. Non sono in mezzo. Eh, capri un buco che... Hai un launchpad, è festo? Ma come ho fatto a mancarlo, putt... No, hai un launchpad che li vado a prendere? No, Martina, li prende. Sì, te le ho un launchpad. No, però posso darli questi, se ne servono, prima che li ammazzano. Sì, vai perché io non ho materiali. Efe, sto tu non li hai? Vieni qua, vieni qua, vieni qua, Efe. Efe, scendi qua. 500 di mattone, vieni. Pusciamoli insieme. Puscia, puscia, puscia. A terra uno, a terra uno. Mamma mia. Vado di impulso? Vado, vado, vado di impulso, ve li tengo. Appena, appena, appena. Nice. Mettetevi nel privato, l'anonimo, come cazzo? No, no, ma era, era palese, era palese. Ci volevano a tutti i costi, eh? Non gliene fregava nulla. Ragazzi, io non posso salire. Ok, arrivo. Io sapevo i materiali. E qua davanti, e qua davanti. Andato. Bene, bene, bene. Sì, mazzo per pusciare. Morto uno, morto uno. Buono, buono, buono. Manca l'ultimo. Oh, mamma mia. Ah, non spammano niente, oggi. Eccomi, eccomi. Sì, sì, sono andata. Perché ti ho messo la jump? Io. Ok. Vabbè, invece qua sono 3 yard, eh. Bravo, figlio di p***a. Ho stato una, una. Morto uno, morto uno. Cento, blu uno. Morto un altro. Morto il team, morto il team. Morto il team. Ma tutti con noi, eh? Mamma mia. Ho 5 cilbini. E questo ha bisogno, ha bisogno? No, no, è morto. Eccomi. Oh, mica lo vedevo. Ci sparavano da, da, anche da, mi sa, da sud, non lo so. Sparavano da ovunque. Sì, ovunque. Ho, ho, ho i spruzzini. Chiudere, sei un po' la fatta? Quello che faccio io le assicuro che in realtà non è proprio così. C'è un, c'è un sessismo incredibile, sì. Ah, beh. L'ultimo. Posso andare a prenderlo? Assolutamente sì. Sì. Vediamo se riesco. E, dovrebbe essere lì dietro, dietro l'albero. Eccolo sì. Sì, sì, sì. Tolgo l'albero se vuole. Quando vuole lo tolgo. Ok, ok. Allora, vediamo un po'. Dai, vieni qua che facciamo un ovino con il cecchino. Metti fuori la faccia di... Metti fuori la faccia di... Metti fuori la faccia di c***o. Vado, io lo vedo benissimo. E tanto muori adesso, è brutto. Io non mi sto neanche bildando. Vieni qua. Qua sarà fatta la puttta. Vieni, vieni. Me lo faccio, me lo faccio. Uè, c'è Naro. Un momento. Inutile che fai tipo la talpa, figa. Metti fuori con la faccia di... Minca lo puscio. Senza cecchino. Minca lo puscio, senza cecchino, sei marco, figlio di p***a. Non ho più materiale, aspetta. Non si può stare lì, ma che ne ho aspettato. No. Ho fatto... Oh, calmi, calmi, calmi. La resta è un po' di materiale. La resta è un po' di materiale. Ok, grazie. Aspetta, aspetta, mattina che la resta. No, sono fermo. Ho fatto la pushata sbagliata, ho fatto la pushata sbagliata. Rifaccia, rifaccia. Madonna, chiacchia essa che potrei fare. Ti pusha, Fè? Sparo per finta? Mi fanno spaventare? Lo vado a fare, lo vado a fare, lo vado a fare, lo vado a fare. No, Martino, non rida per favore, Martino, non rida per favore. No, non ci credo. No. L'ho speccato, peccato. Non scopo, è morto. No, più Mars. No, più Mars. Scusi, ho fatto... Ho già dovuto, ho pensato alla pushata tipo violenta, non... O è genna, e dobbiamo capire bene quando, come, in che modo. No, stia calmo, stia calmo. Ragazzi, sono due campioni, ovvio che ci... Cioè, mi diverto così, ma loro... Anni luce da come gioca. Sider, ma... Ma millenni luce, no anni. Anni luce da come gioca.